ma perché l'hanno avvertito? già gliel'hanno avvertito già l'hanno avvertito ho sentito una signora chiamata Liber ma sta pure un panno l'uomo a terra è qua? questa anni panno l'uomo a terra guarda ti giuro ma una lampada ha hittato ma ha hittato una lampada la gente si è fermata per le cose si è calmata? no la gente che sta guardando mi è già lì